Bella ragazzi siamo i Granas e bentornati sul nostro canale e siamo qui con un video che non abbiamo mai fatto sul nostro canale no vabbè con un video che abbiamo fatto del blog diciamo si e che cosa sarà mai è un vlog un vlog si perchè perchè il vlog perchè praticamente noi che abbiamo fatto eeeh andavamo a fare un cazzo di video su Call of Duty e sono qui davanti guardo guardo storto la televisione perchè ce l'ho con la Play perchè ce l'ho con la Sony perchè ce l'ho con quei cazzo di aggiornamenti che fanno perchè fanno 4 ore che sta fermo sul tempo ovviamente 4 ore quindi sono diciamo fra 8 ore in teoria ma non è comunque così infatti no comunque stiamo cercando di non possiamo fare un cazzo perchè si Battlefield dobbiamo aggiornarlo Call of Duty dobbiamo aggiornarlo Outlast non possiamo farlo in 2 perchè se no non si sentirebbe il coso eeeh il coso serve nell'audio eh eeeh la PlayStation 3 non va quindi abbiamo deciso abbiamo detto facciamo un cazzo di vlog esatto e tanto poi ieri abbiamo fatto il raduno cioè l'altro ieri perchè lo sta portando adesso perchè noi lo stiamo facendo ieri io ho proposto una cosa molto più bella che era tirarle le uova però lui non voleva perchè se non si sporcava quindi se voi vorreste vedere Darryl con le uova schiacciate in testa cliccate like e vi giuro vi giuro che a 800 like lo avrete vi lo giuro a 800 like avrete Darryl con le uova in testa vabbè a 800 like non ci arriverà mai quindi comunque no volevo raccontarvi delle presentazioni di ieri no? si appunto parlano di cose serie cose che veramente ci hanno fatto apprezzare il fatto di essere arrivati qui grazie a voi ovviamente è che come ben sapete credo di si probabilmente si ieri c'è stato un raduno un altro ieri per voi ieri per noi c'è stato un raduno a Re di Roma fermate però a Roma e tutto quanto dove ci sono stati comunque Klaus Noi Frax Omi Zota Drez vabbè una cifra di gente sono finiti c'era parte una cifra eravate veramente tanto tipo 4-5-100 persone che la polizia si è pure fermata una certa per controllare per controllare se c'è qualcuno eh no vabbè e e comunque è stata una bella sensazione perché per tutto non ci aspettavamo che così tanta gente ci riconoscesse perché io mi pensavo si poi 10 persone magari ci avrebbero riconosciuto 20 se ci diceva bene invece no avrei fatto un cento di voto un sacco di voti ovviamente non mi aspettavo una cosa del genere e e infatti tipo ogni fotografo era diverso questo mi fa apprezzare quei film mi viene ancora più la voglia di fare video e di divertirvi perché quando voi vi vediamo veramente di prendere un voto quando vi vediamo in faccia è diversa come cosa perché adesso io sto parlando con la telecamera non sto a parare buona niente con la telecamera ogni pixel è così poetiche però non è così brutta vabbè eh volevamo dirvi anche che oltre al raduno che c'è stato c'è in corso probabilmente adesso tu che lo stai vedendo in questo preciso istante ci stai perdendo una cosa che doveri assolutamente avere in quel momento il Roma Tube un eventone che appunto abbiamo organizzato ma tranquilli perché se tu in questo momento stai guardando questo video non ci sei puoi ancora venire domani puoi ancora venire domani e dopo domani e puoi comprare i biglietti direttamente lì tu piccolo uomo ci puoi portare a tutti quanti noi presenteremo la serata esatto noi saremmo i presentatori di questo eventone della madonna i presentatori dei poveri vabbè sarà veramente figo quindi se avete la possibilità di acquistare perché si si paga un cazzo di teatro dove stare e quindi cioè non ce lo danno gratis noi torniamo a questo argomento no anche perché mi fa sapere il lezzo e comunque se avete la possibilità di acquistare alla modica cifra di 10 euro e 50 il biglietto per entrare a Roma Tube in via pubbio e comunque perché pare come un coglione si potete farlo comprate il biglietto e non ve ne vendete perchè sarà un momento che non vedo comunque vi ringraziamo ancora per la polla che c'è stata ieri vi ringraziamo per il calore che ci avevi dato si faceva caldo faceva caldo anche se pioveva e vi ringraziamo e noi vi ringraziamo e noi facciamo la ratio però non fa rima no comunque Saremo anche a Romics, ci aspettiamo la stessa cosa a Romics, forse anche un pochettino di grande E ce la aspettiamo soprattutto domani Quindi ragazzi noi vi salutiamo perchè andiamo a ripassare la scheletta di Romadub Perchè è veramente impegnativo, ho paura di fare figure di merda Andiamo a ripassare la scheletta di Romadub La farà sì E niente, noi ci becchiamo la prossima Il prossimo video Che sarà Che possibilmente forse sarà Lost Se non fai capirci O Vadano O Vadano Ciao 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 Ciao